Ciao Mal. Ciao Steffi. Un effetto carino, crazy, e darò la spiegazione ai miei amici. Guarda che carino questo effetto. Si fa con carte regolari. Si. Ho usato un mazzo di carte regolari, ragazzi, tranquillamente. Carte possono essere uno sport, non c'è nessun problema. Ora, come funziona il tutto? Prima di tre carte, ok? Tu dovrai semplicemente pensarne una di queste tre carte che vedi. Le faccio vedere? Pensata? Si. Ce l'hai? Si. Ne hai solo una nella mente, giusto? Si. Potrebbe essere rossa, come questa nera. Ok. Comunque tu l'hai pensata, giusto? Si. Ok. Altra cosa importante, è impossibile capire, per le possibilità sono tre, una su tre. Giusto? È bello. Fondamentalmente. Una su tre non è male. Una ne ho pensata. Una ne ho pensata. Ok. Per me è pensato... Vado, spara a caso, il tre. No. No. Non hai pensato il tre. Quattro di picche. 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 Ora, giusto? Se tocca una carta. Questa? Si. Questa qui? Si. Ok. Ora, tieni la carta in mano. Così, come la tengo io. E concentrati. Passa l'ombra. Allora, qui abbiamo il tre, giusto? Non lo so cosa c'è. Rimani così. Passa l'ombra. Ok. C'è il tre. Si. Giusto? Qui c'è il quattro, perché qui passa l'ombra. Ok. C'è il sei, che c'era. E qui c'è il quattro. Che era il quattro di picche. Si. Ora, concentrati. Cambia, cambia. Fermati. E' diventato di fiori. No, era di picche. E dov'è la mia, scusa? Eccola qua, ce l'ho in mano. No, dai. Ma che l'hai fatto? Bellissimo. Carino, eh? Si, molto. Mannaggia. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Come si vuoi? Bravo Stefa, complimenti.